ciao a tutti siamo su fallout 4 precisamente a diamond city e vi mostrerò come avere qualsiasi oggetto in possesso dei mercanti venite da un mercante qualsiasi precisamente qui a diamond city in questa posizione sulla mappa entrate nell'inventario del mercante ed acquistate un pacchetto munizioni se ha più di 20 munizioni è meglio allora io adesso prendo le munizioni per il lanciafiamme le compro tutte una volta che le avrò nel mio inventario premerò x per venderle e ne venderò solo una premerò di nuovo x dopo di che le venderò di nuovo ma le venderò tutte ok come vedete adesso mi fa vendere le munizioni infinitamente premendo sempre x se noi andiamo nell'inventario del del nostro mercante riandremo sulle munizioni che abbiamo comprato e premeremo sempre x come notate in basso a sinistra i miei soldi aumentano adesso potremo comprare tutto ciò che c'è in possesso nell'inventario del mercante prenderemo tutto ciò che ci serve prenderemo tutto ciò che ci serve prenderemo tutto ciò che ci serve Grazie a tutti. Per completare la transazione basta che premerete quadrato e accetterete. Adesso io ho tutto ciò che mi serviva che era in possesso del mercante. Se il glitch vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi. Ciao a tutti. Grazie a tutti.